E' attiva a Torino la start-up Disunic, la prima realtà italiana a occuparsi di cura mestruale. L'idea è di Ludovico Grassi, Alice Carbonara, Lisa Iannello e Vincenzo Mansi, che attraverso i social cercano di abbattere il tabù su questo tema, creando informazione. Ma cosa fanno? Distribuiscono dispenser di assorbenti ecocompatibili e compostabili, in cotone organico al 100%, plastic-free e chemical-free, nel rispetto dell'ambiente e delle persone. Si degradano in sei mesi contro i 500 anni di quelli tradizionali. Ma soprattutto assorbenti gratuiti, perché nei bagni troviamo gratis la carta igienica, il sapone e le salviette, ma non troviamo gli assorbenti per le donne. Non sono forse un bene primario? La città metropolitana di Torino ha approvato una mozione per informare tutti i comuni del territorio di questa buona pratica, già avviata ad esempio dal comune di Michelino, ma anche da numerose scuole, come il Curilevi di Collegno e Grugliasco, che hanno installato dispenser di assorbenti gratuiti. Ad esempio a Michelino sono presenti in 35 edifici comunali e nei nidi, scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo grado, per le educatrici, le maestre, le insegnanti, il personale docente, oltre che per tutto il personale comunale, e le cittadine che frequentano i servizi pubblici. Una scelta simbolica, ma concreta, allo stesso tempo contro la disparità di genere, un piccolo gesto di civiltà verso una piena parità. Noi siamo nati tre anni fa, in realtà tra chiacchiere, tra amici, siamo in realtà quattro ragazzi, e il nostro obiettivo è stato concentrarci sul ciclo mestruale, sulle mestruazioni, andando ad agire su due pain point, che secondo noi sono i più incidenti rispetto a questa esperienza. Quindi la sostenibilità del prodotto, perché gli assorbenti tradizionali impiegano circa 500 anni a decomporsi, i nostri sono compostabili, quindi insomma è già un'alternativa più green, e l'educazione e l'informazione relativa a questa esperienza. In Italia c'è sempre stato un grande tabù, e quindi con i nostri social, con il nostro blog, che sono diventati tra i più seguiti in Italia sull'argomento, cerchiamo di educare le persone e finalmente rendere le mestruazioni qualcosa di normale, come dovrebbe essere. Immagino abbiate fatto fatica, soprattutto vi sarete scontrati con qualche mondo che ha ancora dei tabù su questa tematica, però mi pare di capire che questo progetto sta circolando. A Torino, in Piemonte, ma anche nel resto d'Italia. Sì, assolutamente. Noi siamo nati vendendo le box di assorbenti ai clienti privati. Da un anno a questa parte abbiamo iniziato un progetto di collaborazione con scuole, aziende, università del territorio italiano ed europeo, dove proponiamo di andare ad inserire assorbenti gratuiti per le dipendenti e le studentesse in quanto bene primario. Non credevamo di raccogliere dei risultati tanto floridi in così poco tempo, ma sta andando avanti e siamo sicuri che stiamo facendo un buon lavoro dal punto di vista della sensibilizzazione in Italia. Grazie. 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 Grazie.